La potenza nel web sta nella sua universalità e poterci accedere a prescindere dalle proprie disabilità ne è un concetto fondamentale. Sei chi ha detto questa frase? Seguimi e lo scopriremo. Io sono Michele e oggi parliamo di accessibilità dei siti web dal punto di vista di uno sviluppatore e quindi cosa dobbiamo fare per rendere il nostro sito più accessibile e fruibile da qui un. È sempre molto meglio pensare all'accessibilità di un sito web sin dalle fasi iniziali della sua progettazione perché dover sistemare un sito a posteriori che non era stato pensato appositamente è molto peggio. Una parte molto corposa che costituisce e che compone l'accessibilità di un sito è data dalla scelta dei colori. Lavorare con i colori non è facile e sono stati fatti moltissimi studi tra i rapporti di dimensioni del testo, sfondo di colore, contrasti da vari enti indipendenti come per esempio anche il V3C, il consorzio che regola e regolamenta i linguaggi del web. Io per esempio sono sempre stato negato con i colori e di queste cose non ci capisco molto però ci sono degli strumenti che ci permettono di verificare l'accessibilità del nostro sito e scegliere delle palette di colori il più accessibili possibili. Andiamo subito a scoprire quali sono. Per esempio abbiamo Colorsafe.co che è un sito che permette di realizzare delle palette di colori molto belle e accessibili seguendo le linee guida del WCAG che stanno per Web Content Accessibility Guidelines. Quindi per esempio cominciamo, facciamo Get Started, io gli dico il colore del sfondo per esempio del mio sito a me piace il blu, prendiamo il blu, utilizzo il font Helvetica, sto per fare un testo piccolo perché l'accessibilità ovviamente è influenzata dalla dimensione del testo gli dico voglio rispettare gli standard più elevati, AAA, genera palette di colori a questo punto per esempio, ok, ho qui sotto, posso scegliere i colori vedete che qui cambia il colore del testo riesco comunque ad ottenere delle abbinate di testo di sfondo blu e testo colorato molto leggibili perché hanno determinati rapporti di contrasto. Invece per generare palette di colori con un senso o anche comunque per verificare l'accessibilità c'è Adobe Color, assolutamente gratuito quindi andate su color.adobe.com, ok, andate a questo indirizzo qui e scegliamo sempre il livello, per esempio il più stringente è AAA secondo il WCAG e io posso giocare quindi con colore del testo e colore di sfondo sì, colore di testo e colore di sfondo e mi devo assicurare che qui mi dia la spunta verde quindi che il rapporto di contrasto sia oltre un certo numero in questo caso mi sembra di essere superiore al 7, sì esatto quindi qui posso giocare con l'accessibilità mi fa vedere per i valori più piccoli di 17pt, maggiore di 18 o anche per la grafica invece nella Color Wheel, per esempio, io sono sempre stato legato con i colori e mi dà la possibilità di creare delle palette di colori secondo determinati criteri quindi qui l'analogo, il monocromatico, il complementare, complementare split, eccetera dove io posso giocare, per esempio trascinare quello che è il colore primario della mia paletta che è questo qui in centro con la freccia ok, e lui mi propone una palette di colori, che ne so, analoghi posso anche giocare con gli altri andando a fare cose di questo tipo un'altra cosa molto interessante è che potrete fare drag and drop di un vostro, che ne so, logo, immagine preferita e lui estrae da questa immagine quelli che sono i colori per una palette per esempio lo faccio per il logo, per il mio logo, ok, questo qui e lui mi propone la palette di questo tipo posso farne delle varianti e poi mi salvo i codici esadecimali e posso riutilizzare questi colori nel mio sito per avere una sorta di brand identity un altro strumento invece che abbiamo a disposizione come developer per capire se un sito web è accessibile è Lighthouse Lighthouse è uno strumento che è stato inizialmente sviluppato da Google e poi si è diffuso come facciamo ad accederci? Per esempio io ho il browser Edge faccio F12 per aprire gli strumenti da sviluppatore e clicco qui su Lighthouse, è uno delle ultime voci sulla destra Lighthouse è in grado di generare report di analisi di parecchie informazioni suddivise in categorie, ok, tra le cui anche SEO è molto interessante ma è tutto un altro argomento quello che mi interessa in questo caso è solo l'accessibilità quindi vado qui nelle categories e lascio solo Accessibility faccio Analyze Page Load in questo caso ovviamente me lo fa della pagina che ho qui sulla sinistra di Google lui fa il suo report la lasciamo lavorare eccoci qua, che cosa ci dà? Un voto che va da 0 a 100 quindi Google ha fatto stra bene, 98 di accessibilità di questa pagina e poi eventualmente ci dà degli avvisi ci sta dicendo qui che abbiamo un testo e ci mostra dove un basso contrasto ma è una cosa di novità eccetera comunque ci fa anche vedere tutti i controlli e le best practice di accessibilità che sono state controllate o eventualmente quelle non pertinenti con la pagina che stavamo visitando molto utile un'altra best practice che possiamo ricordarci è quella di mettere i link in maniera sensata quando scriviamo mi spiego meglio il leone è l'animale più famoso della savana qui come vediamo la parola leone è un link ok, lo vediamo perché è sottolineato se io clicco si apre la pagina di Wikipedia che va a parlare del leone questa è fatta bene immaginiamo di avere uno screen reader, quindi qualcuno con problemi di vista che sta utilizzando uno screen reader che gli legge il testo della pagina web e qui gli leggerebbe il leone, l'animale più famoso della salvana e poi gli farebbe sapere che il leone è un link che potrebbe, lo porta su Wikipedia e questo è scritto bene quello che non vogliamo fare è qualcosa di questo tipo quindi scrivere il leone per esempio e lo mettiamo così visita e poi gli mettiamo a questo per, che ne so, per di nuovo il testo potrebbe capitare di vedere un qualcosa del genere di sicuro nel web per saperne di più quindi a una persona diciamo senza disabilità leggerebbe il leone visita wikipedia.org eccetera per saperne di più è l'animale più famoso della savana ma se avessimo uno screen reader verrebbe letto il leone visita https due punti barra barra sarebbe molto noioso da sentire un'esperienza di certo non piacevole per i nostri utenti quindi ricordiamoci utilizzare il link in maniera intelligente infine un'ultima cosa quando facciamo le immagini fornire sempre un testo alternativo che descrive quello che c'è nell'immagine quindi all'interno del tag html img facciamo utilizziamo l'attributo alt dove diamo una descrizione quindi se abbiamo l'immagine di un leone scriviamo un leone che ne so nella savana e poi vabbè ci sarà il collegamento all'immagine ok ecco che viene anche utilizzato nel caso del link rotto ma viene anche utilizzato dagli screen reader bonus point un sito accessibile piace anche ai crawler o agli spider dei motori di ricerca che sono quei programmi che leggono praticamente tutti i siti web e li permettono a google bing e altri di indicizzarli e quindi restituirli nei risultati di ricerca se un sito è accessibile piace ai motori di ricerca e quindi comparirà più in alto nei risultati infine quando stai progettando un sito ricordati della tastiera i tasti come tab permettono di passare da un elemento all'altro bisogna assicurarsi che l'esperienza di passare da un elemento all'altro per chi per vari motivi è costretto ad utilizzare o preferisce utilizzare la tastiera siano fatti bene ok e con questo abbiamo concluso l'argomento accessibilità ci sarebbe da dire molto di più è difficile riassumere in video di pochi minuti tutto il mondo dell'accessibilità però questi sono concetti base che possono essere sempre applicati e prima li applichiamo al nostro sito al nostro progetto meglio sarà perché ripeto sistemare poi è molto più difficile se il video ti è piaciuto metti un mi piace e segui il canale così sarai notificato non appena usciranno nuovi video ah sì quasi dimenticavo la frase iniziale la detta Tim Barners lì l'inventore del World Wide Web lì 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 lì